Alleanze e coalizioni in vista delle elezioni regionali del prossimo ottobre sono chiamate ad un importante banco di prova con le amministrative del prossimo 12 giugno. La partita più importante si gioca nel centrodestra a Palermo, dove Ignazio Larussa è stato spedito da Giorgia Meloni per incontrare i dirigenti di Fratelli d'Italia, ma anche il presidente della regione e il candidato sindaco di centrodestra a Palermo, Roberto Lagalla. Proprio nel capologo siciliano il ritiro della candidatura di Francesco Cascio di Forza Italia, che sarà in ticket con l'ex assessore regionale all'istruzione, è stato letto come il tentativo di non creare un'ulteriore frattura insanabile all'interno del centrodestra per tenere unita la coalizione e per non lasciare Palermo di nuovo nelle mani di un governo di sinistra, ha confermato l'ex candidato sindaco, che aveva come vice sindaco designato l'attuale assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà, unico componente dell'aggiunta Musumeci in quota Lega. Sarebbe bello per la Sicilia, dice la russa, che il vertice Berlusconi-Meloni-Salvini non fosse necessario per decidere quello che a me sembra naturale, uniti sulla galla e uniti su Musumeci. A tenere banco però è la polemica seguita all'intervista rilasciata da Gianfranco Micicchè e pubblicata dalla Stampa Domenica, in cui il pensiero del numero uno dell'Ars è stato riassunto nel titolo Musumeci è un fascista e a Palermo non lo vogliamo più. Le polemiche, dice il governatore, mi hanno suscitato stupore, ma niente di più. Micicchè non ha mai pronunciato quelle parole, quindi stiamo parlando del nulla. E mentre Musumeci chiede alla Stampa di smentire, sulle colonne del quotidiano torinese c'è la trascrizione integrale dell'intervista registrata con il coordinatore regionale di Forza Italia e come si evince dal testo non c'è proprio nulla da smentire.